Il tanto atteso appuntamento è arrivato. La San Giovannese si gioca al primo round della semifinale di Coppa Italia domani contro il Fondi, dopo aver evidenziato nell'ultima uscita di campionato con il Foligno di avere la testa proprio a questo impegno ad eliminazione diretta. L'almeno parziale turno di riposo per più di un giocatore dovrebbe aver eliminato anche le tossine accumulate recentemente, con l'unica eccezione legata a regoli che non era al meglio neppure domenica, tanto da non essere entrato in campo. In effetti c'è da tener conto della regola dei quattro under, conseguentemente la formazione più probabile appare quella con il 4-3-2-1 iniziale, con Bini e Papa esterni bassi, Pezzati e Innocentini davanti a Bettoni in difesa, il centrocampo titolare con Buono in regia in mezzo a Mugelli e Camillucci, Bezzi e Lischi attaccanti esterni, De Angelis vertice centrale. Qualora le condizioni di regoli o Bucaletti permettessero loro di entrare, dovrebbe esserci spazio a match in corso. E' questa anche la gara per sfatare un tabù degli spareggi contro le squadre laziali. Nelle ultime due circostanze in cui il Marzocco ha affrontato in gara d'eliminazione diretta rappresentanti di quella regione, è infatti sempre uscito sconfitto. Dieci anni fa, nel 2006, la semifinale play-off per andare in Serie B contro il Frosinone, Vide 2-0-0 e Di Ciociari passarono per miglior posizione finale in campionato, mentre nel 2013 il Terracina, che da fondi dista circa 20 chilometri, vinse in casa 2-1 ed impattò 2-2 al Fedini, la prima sfida interregionale per le migliori di eccellenza. Arbitra Gariglio di Pinerolo, fresco fischietto del derby della Valtiberina tra città di Castello e Sansepolcro.